cari amici buongiorno bentornati al caffè biblico ai miei pesciolini a proposito dei pesciolini ieri sono stato a pesca ieri mi sono goduto proprio una bella giornata adesso a fine maggio la temperatura ideale e sono tornato al mare dopo tanto tempo e mi sono goduto una bella giornata il mare era abbastanza tranquillo e anche un bellissimo tramonto guardate queste immagini del tramonto di questa costa marchigiana la mia canna in primo piano ho anche pescato qualcosa giusto per la cronaca ma mi sono goduto la natura l'ambiente ero solo e quindi mi sono proprio goduto le bellezze della natura la natura è stupenda e i tramonti fanno riflettere i tramonti sono sempre significativi non solo perché sono belli perché hanno questi colori che attraverso l'atmosfera le nuvole cambiano ogni giorno ogni sera c'è un tramonto diverso c'è un colore diverso abbiamo un artista che non si stanca di cambiare i colori e le sue tavolozze sono straordinarie i suoi quadri sono straordinari dio è grande e quello che fa è stupendo e fa riflettere ora il tramonto faceva riflettere anche tanti anni fa il buon salomone il grande pensatore di migliaia di anni fa re di israele uomo di grande cultura salomone rifletteva sul tramonto e scriveva queste parole nel libro dell'ecclesiaste in mezzo alla bibbia dice anche il sole sorge poi tramonta e si affretta verso luogo da cui sorgerà di nuovo e fin qui è banale l'osservazione ma poi dice che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole una generazione se ne va un'altra viene la terra sussiste per sempre la alternarsi del giorno della notte e questa questo alternarsi che continua anche dopo di noi anche dopo il nostro tramonto fa riflettere fa riflettere non solo gli anziani come il salomone che quando ha scritto l'ecclesiaste era già avanti con gli anni non solo il sottoscritto che ha i baffi bianchi i capelli bianchi ma fa riflettere tutti io riflettevo queste cose anche quando ero nell'adolescenza e pensavo e dopo la morte che c'è e dopo il tramonto cosa c'è cosa mi riserva questa vita che a quel tempo era abbastanza triste era abbastanza poco piacevole e proprio queste riflessioni mi hanno spinto a guardare in alto a cercare il signore a cercare l'autore di questi tramonti di questi colori di questa natura e a prepararmi per il dopo e come salomone rifletteva su questo così ho riflettuto anch'io e ho cercato di prepararmi per l'eternità e ho cercato colui che mi ha preparato per l'eternità ho cercato quel gesù risorto e vivente che poi si è fatto trovare abbiamo avuto un incontro fantastico bellissimo che ha reso la mia vita diversa eterna e mi ha reso la pesca la natura tutto quello che faccio molto più gradevole sapendo che c'è un dopo che non finisce col tramonto dio ti benedica grazie a tutti